Stiamo valutando la possibilità di convocare una seduta consigliare straordinaria così come richiesto dall'opposizione e discutere quindi delle dichiarazioni rilasciate dal giornalista di Radio 24 Roberto Galullo e ritenute lesive per la città di Scalea e il sindaco della cittadina Pasquale Basile a dichiararlo. E nostra intenzione però prosegue il primo cittadino dare la possibilità all'accusato di potersi difendere quindi occorre del tempo per organizzarsi ma non vi è nessuna preclusione in merito alla richiesta della minoranza. Proprio nel corso dell'ultima seduta consigliare a Scalea l'opposizione aveva avanzato la richiesta di convocare un consiglio comunale per argomentare sulle dichiarazioni del giornalista che riprendendo episodi di cronaca e mala politica interessanti il Tirreno Cosentino e Scalea faceva passare il messaggio di una cittadina criminale. In realtà dichiara al consigliere di minoranza Gennaro Licursi la mia richiesta di convocare un consiglio comunale come quella di tutta l'opposizione nasce non solo per difendersi dalle accuse del giornalista. La richiesta di convocazione di consiglio comunale è scaturita soprattutto da un vatto a mio avviso e ci siamo un pochettino diciamo trovati un po' frastornati quando da parte del sindaco in particolare ma anche del consigliere stesso che era interessato voglio dire all'atto non c'è stata nessunissima risposta. Allora è chiaro che le forze di opposizione in questo contesto trovano un'unanimità di pensiero e quindi da qui è nata l'idea di una richiesta di convocazione di consiglio comunale che io ritengo che debba essere fatta al più presto ma questo non solo l'interesse di Scalea ma dell'intera collettività.